Eccoci qua. Buonasera. Spero che stiate bene. Bene, mi presento, mi chiamo Ezio Cetti, sono uno psicologo, mi occupo di bambini, adolescenti, dinamiche educative da tanti anni, da tanti anni. Io prima di cominciare faccio sempre una premessa, ci tengo tantissimo alla premessa, tantissimo, tantissimo, più di tutto, più di tutto, per cui una volta finita la premessa possiamo andare a casa. La premessa è questa. Facciamo andare bene questo incontro. Facciamolo andare bene. Voi rinunciate una sera, io vengo da lontano, vengo da Lecco. E come si fa? Come si fa a fare davvero l'incontro? Semplice. Semplicissimo. Perché la vita è semplice, siamo noi che la complichiamo. Adesso sono più o meno le nove, se le dieci, dieci e mezza, undici, se quando avremo finito saremo un pochino più contenti tutti, 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 sarà andata bene. Se no, non sarà andata bene. Ma voi potreste dirmi, ma chi sei tu per farci contenti? Io sono nessuno. Ma c'è un sistema per essere contenti tutti e che funziona sempre. E questo sistema che io vi dirò, cari genitori, dovrebbe essere l'unica cosa fra di noi, fra di voi. Senza questo sistema, anche se voi foste le persone più intelligenti sulla faccia della terra, avete fallito. Anche se foste le persone più ricche sulla faccia della terra. Senza questo sistema è meglio che i preti cambino mestiere. Lo dico col cuore in mano. E il sistema è questo. Speriamo di poter avere fra noi questa sera quello che noi psicologi diciamo una comunicazione empatica. Cosa l'è la comunicazione empatica? È tutto. Ho detto semplicemente tutto. È quel qualcosa che foste fra la gente che non è legata al contenuto ma al rapporto. L'avete vissuta la comunicazione empatica? Ti è mai capitato? Durante la settimana la vita è diversa. Ti capitano dei momenti belli. Era lì. È l'humus. È l'atmosfera fra di noi. Ti è mai capitato di dire una roba a tuo figlio, al tuo uomo e si sono cambiati? Il giorno dopo gli hai detto la stessa roba, la stessa roba. Perché c'era la comunicazione empatica. Lo si può dire anche a livello religioso, sapete? Se c'è qualcuno che crede qua lo diciamo a livello religioso. Perché tutto ciò che si può dire a livello umano lo si può dire anche spiritualmente. Sapete se c'è un credente qua qual è l'unica cosa che dobbiamo fare stasera? L'unica. Speriamo che Gesù possa essere fra di noi. Perché se c'è lui allora la baraca va. Se no no. E non pensate che sia difficile. Mica se la tira Gesù, sapete? C'è una voglia matta di stare con noi. Per averlo è semplicissimo, dobbiamo volerci bene. Cosa vuol dire in termini umani? Che per poter avere la comunicazione empatica e anche Gesù fa noi abbiamo una strada sola. Noi dobbiamo essere qui con un ascolto pieno profondo. Ci sono tre modi per ascoltare la gente. Il primo quello che fai quando vai in banca, te ti avete in banca, parli e l'altro sta telefonando un altro, ti dà fastidio. Il secondo, chiedo scusa alle donne che sono qui, vi chiedo scusa, ma io devo dirla sta roba. È quello che spesso la donna fa. Tuo figlio ti parla. Il tuo uomo ti parla. Non hanno ancora finito di parlare. E tu hai già la risposta da dargli. Ma che cosa sono qui a parlarti a fare? Parlo per i pochi maschi che sono qua. Ascoltatemi bene. Cari maschi, io vi auguro di vivere cent'anni. Ma quando voi avrete ottant'anni e morirete, la vostra donna vi dovrà dire come dovrete entrare nella cassa. È più forte di lei. C'è un terzo modo per ascoltare. Questa volta sì parlo bene della donna, parlo molto bene della donna, perché questo modo ce l'ha insegnato la più grande donna educatrice che abbiamo avuto in Italia. La più grande. La Chiesa non l'aveva capito. Ci è voluto Paolo VI, perché ogni tanto noi arriviamo dopo. Paolo VI l'ha riabilitata. Si chiamava Maria Montessori. Sapete cosa dice la Montessori sull'ascolto? Ascoltare qualcuno. È come se ci fosse un bambino appena nato qua in mezzo. Se ci fosse un bambino appena nato qua in mezzo, tutti noi faremmo due grandi cose. La prima, saremo attenti. Qualsiasi cosa il bambino fa, avremo un'attenzione particolare. C'era Simone Weil, questa filosofa francese, che diceva la cosa più bella fra gli esseri umani è l'attenzione. Secondo, qualsiasi gesto il bambino fa, avremo uno spazio di ascolto pieno, profondo. Ecco, io chiedo questo ascolto da parte vostra nei miei confronti e ve lo garantisco da parte mia nei vostri confronti se avremo un po' di dibattito. Se avremo questo rapporto, vedrete che andrà bene, perché quello che conta non è quello che io vi dico, ma quello che costruiamo insieme. Secondo premesso userò qualche slide, queste aiutano a me, ma spero anche voi a seguire quello che dirò. Ci diamo i tempi, che ore sono, Shura? Mi dica che ore sono. Che ore sono? Eh? 9.3. Lei a 10 minuti, alle 10, mi deve dire di smettere, senza usare violenza, con delicatezza, così, e poi ora. Allora, vedremo alcune cose. Primo, andremo a vedere a che punto siamo oggi sull'educare. Voi non sapete la pazienza che i nostri figli hanno nello stare con noi, dovrebbero scappare di casa, si salvano, ma lo vedremo. Devo trattenermi, perché noi non amiamo i figli, non venitemi a raccontare balle che noi amiamo i figli. Lo dimostrerò stasera, perché Heidegger diceva, ci vorrà pur qualcuno che parli dell'uomo. Anche la chiesa che io amo si deve svegliare. Gliel'aveva detto Giovanni Paolo II, la via della chiesa sarà l'uomo, è che lo conosce ancora poco la chiesa, l'uomo. Secondo, una volta che abbiamo visto la storia dell'educare andremo a vedere il momento di crisi, perché siamo poi crisi. Ma io con la crisi non intendo una cosa negativa, la crisi è sempre un passaggio. Poi andremo a vedere gli errori educativi e alla fine termineremo su che cosa vuol dire educare. Io faccio questo incontro qua perché mi hanno invitato. Secondo me servono a poco, quello che penso dico. Se fosse per me, io faccio tanti incontri in Italia, l'unica cosa che serve è fare un incontro su come funziona un bambino fino ai 6-7 anni. Secondo me tutto il resto non serve niente, perché noi non sappiamo niente dei bambini. Ma non ho tempo, parlerò d'altro perché non mi avete invitato a parlare dei bambini. Però guai a voi se non mi fate degli incontri sui bambini, perché la cosa più sciocca che abbia mai sentito è la mamma che dice che vuole bene un bambino. Tutte le mamme sulla faccia della terra dicono che vogliono bene i bambini, ma vogliono dire a quelli che sono venuti su storti, se gli volevano bene o male. Ma devo stare in tema. Allora andiamo a vedere prima a che punto siamo sull'educare, come l'è la baracca oggi. Per fare questo andremo a vedere com'era una volta e com'è oggi. Una volta le norme e le regole muovevano il mondo. Se un bambino faceva qualcosa che non andava bene per strada interveniva qualsiasi adulto e noi lo ringraziavamo. Provate a farlo oggi, rischiate la denuncia. Una volta avevamo stima dei nostri vecchi, stima dei nostri prof. Era così. L'adulto era così. Secondo, c'era una roba una volta, c'era la coerenza educativa. Sapete cosa è il D la coerenza educativa? Che il prete ti diceva una roba, la famiglia la stessa roba, la scuola la stessa roba, che la scuola è ferma, tutta la scuola italiana è ferma di 50 anni, anche le scuole dalle suole. Mi ascolterete stasera, così non mi chiamerete più e abbiamo finito la baracca. C'era la coerenza educativa. Era facile diventare grandi una volta e che nessuno mi venga a dire che oggi i nostri figli sono viziati, se no io vado via all'istante. Se tutti ti dicono, pensate all'adolescenza, ce l'abbiamo avuto tutti le paturnie adolescenziali, o no? Ma se tutti ti dicono la stessa roba, diventi grande. Abbiamo abbandonato i nostri figli oggi. Età media del primo rapporto sessuale è 14 anni e 8 mesi. E secondo me i nostri figli hanno perfettamente ragione a portarsi a letto la ragazzina, se noi non gli parliamo più dell'amore. Terza roba, la terza roba importante. Una volta c'erano pochi stimoli. Voi vivete qua in montagna, se te te avete in montagna, qua, cosa fai? Vai in profondità, ascolti il silenzio. Sapete perché siamo capaci di ascoltare noi? No, perché siamo più bravi dei nostri figli? Smettiamola con queste sciocchezze. Prova a vivere in un mondo dove non hai stimoli, come in montagna. Ascolti, vai in profondità. Siamo capaci di ascoltare, non per merito, perché abbiamo vissuto in un mondo così. Quarta roba, e com'era l'educazione naolta, quella che abbiamo ricevuto noi? C'erano due robe. L'autorevolezza, avevamo stima dei nostri vecchi, stima dei nostri educatori, anche i prof. Però, signori, c'era anche l'autoritarismo. Avevamo un po' fifa, o no? Quante volte volevamo rispondere a loro, non l'abbiamo fatto? Per non parlare di quante donne che magari avevano il marito violento e non potevano dirlo, perché sennò venivano messi alla berlina. Ma, insomma, come ogni epoca, aveva i punti di forza e di debolezza. Io non sto dicendo né meglio né peggio. Saremmo stolti a dire che era meglio o peggio. I punti di forza erano la norma, la regola, l'etica, l'autonomia, il sacrificio. I punti di debolezza quali erano? Che tutto ciò che riguardava l'emotivo lo tarpavamo, la creatività non si poteva dire, le cose personali dovevi tenertelo dentro. Questo era un po'. Con i pro e con i contro. Andiamo a vedere oggi, però signori, prima di arrivare a oggi, vi faccio vedere che cosa è capitato. Prendo a prestito le parole di un filosofo italiano, Umberto Galiberti, che dice una roba bellissima. dice che in questi ultimi 40 anni sono avvenuti molti più cambiamenti che non nei 1970 che ci sono stati prima. Sapete cosa vuol dire questo? Noi abbiamo studiato la storia. Con tutta la storia, c'è l'epoca antica, classica, il medioevo. Ogni epoca dura 300 anni. Ok? 300-400 anni. Bene. Galiberti ci dice che in 40 anni ce li siamo fatti fuori tutti. E dice questo. Poi lui dice, ma noi genitori, noi educatori, noi insegnanti che è un disastro, siamo pre-tecnologici. Non siamo ancora capaci di governarla. Vi dico che cosa è capitato. Eravamo sulla sponda di un fiume, con un certo sistema, un certo metodo, che non servirà più. È da pazzi punire oggi. Ma dovremmo dimostrarlo scientificamente. Perché se ci fosse Don Bosco qua ci farebbe, sì, ribaltare. Eravamo sulla sponda di un fiume. C'è venuto addosso uno tsunami. Un fiume in piena, che è l'oggi, poi vi dirò come è fatto. Dobbiamo portarlo dall'altra parte del fiume. Ecco, noi siamo la generazione di mezzo che deve gestire questo. Se noi non partiamo da qui, non capiremo niente dei nostri figli, dei nostri bambini e della profezia della Chiesa. Niente. Anche i preti dormono. È ora che si sveglino. Allora, andiamo a vedere com'è il mondo oggi. Cos'è lo tsunami? Non sto dicendo che è negativo, bello o brutto, ma dobbiamo vederlo per capirlo. Altrimenti, sapete qual è l'errore che facciamo? Ve lo dico subito, lo capirete. Che giudichiamo lo tsunami con le categorie di una volta. Che sono vecchie, baccucche, becere. Questo è. Ma cominciamo a vedere com'è lo tsunami. Volete capire il mondo d'oggi? Abbiamo una porta d'ingresso. Quando ti dite in una casa la prima roba la porta. La porta a un nome. Emozione, emozione, emozione. Faccio una roba se la sento, se non la sento non la faccio. È l'emozione che governa tutto. Non sto dicendo che le emozioni sono belle o brutte. Sono energia. Che se io non le governo, queste governano me. Ma che cosa pensate? Il 99% di tutte le tragedie televisive, di tutte, hanno un'unica radice, sapete? Le emozioni non gestite. Non ci sono i mostri. Sono la d'Urso, dei Filippi Clerici, stestolte creano mostri. Perché non capiscono niente. È l'emozione che muove tutto. Seconda roba. Non c'è più la coerenza educativa oggi. Il prete ti dice una roba quando te la dice ancora. La scuola non sai che cosa dice. La famiglia un'altra. Internet un'altra. Facebook un'altra. Cos'è giusto? Io vorrei farvi una domanda, cari genitori. Se noi qui abbiamo idee diverse, rogniamo un po', poi arriviamo all'accordo, no? Ma io non posso dire al ragazzo di 13-14 anni, queste sono 10 idee, scegli te. Li abbiamo lasciati letteralmente soli. Punto. Ne sono convinto. Al 100%. Terza roba. Ma è la terza roba che ci fa capire cosa è successo. oggi un ragazzo, i bambini oggi sono bombardati dagli stimoli. Vi spiego. Abbiamo fatto un esperimento, mille fotografie nelle camerette dei bambini di oggi, ok? Le abbiamo confrontate con mille fotografie nelle camerette dei bambini di 40 anni fa. Abbiamo fatto i nostri calcoli e abbiamo visto che la zucca di un bambino oggi dagli 0 ai 10 anni riceve 47 volte di più gli stimoli di quelli che abbiamo ricevuto noi. Io vorrei farvi la domanda più semplice sulla faccia della terra. C'è la vostra zucca. Fosse bombardata dagli stimoli. Che cosa fareste? Cosa fareste? Datevi una risposta a questo e capirete qualcosa dei bambini. Collego, metti insieme, collego, collego. La capacità che i bambini hanno di collegare le cose e voi ve la sognate. Uno dei giochi più belli che possono fare è la Playstation. È bellissimo! E dato che la mamma è la mica capace, smettila. I mariti sono capaci perché i mariti sono il figlio aggiunto, lo sapete. I vostri mariti sono capaci loro. È rapido. Io non sto dicendo giusto o sbagliato, non esprimo giudizi morali. Non sono moralista, ma abbiamo l'obbligo di capire cosa succede. E guardate che io sono molto ottimista perché ce la faremo, ma dobbiamo capire bene come muove il mondo. Avere molti stimoli vuol dire che il mondo è completamente diverso. Sapete dov'è la fregatura? Che abbiamo ancora una scuola vecchia, una chiesa vecchia. È una società vecchia, pur avendo la chiesa il tesoro dentro di sé, perché Dio è tutto. Quarta roba, di fronte a sta roba qui, allora com'è l'educare oggi? Facciamo un po' fatica o no? Non possiamo dire che non facciamo fatica. Siamo un pochino in crisi di fronte a questo. Ma prima di vedere questa crisi, vi dico che cosa è capitato. Se io a un asinello gli metto su il carico giusto, l'asinello va. era la società di una volta, dove avevamo voglia di diventare grandi, avevamo meno robe, ma anche la voglia di diventare grandi. Questa era la nostra epoca. Sapete com'è oggi? Se io a questo stesso asinello gli metto sopra un macegno, l'asinello non ha voglia di diventare grande. È mai possibile che il 70% di tutti gli adolescenti hanno una bassa stima di sé? Ma c'hanno tutto, c'hanno tutto! Ecco perché non c'hanno tanta voglia. C'è un libro bellissimo della Feltrinelli. Dice L'epoca delle passioni tristi. Sapete cosa dice sto libro? Che i nostri giovani c'hanno mica tanta voglia di diventare grandi. Poi vi farò vedere perché. Allora noi, ancora lì con la zucca, a pensare che devono fare le robe perché li pulpuniamo. Se ci fosse San Giovanni Bosco ci farebbe ribaltare. Ma allora cosa fare? Perché senza voler diventare grande la speranza muore. Vedete, la società non possiamo cambiarla. La complessità, possiamo mica tornare dietro. Bisogna rinforzare l'asinello. Rinforzarlo. E il dramma sapete qual è? Che l'educare non è così. La scuola per primo che crea solo cadaveri. e anche la famiglia. Tutto in buona fede. Tutto in buona fede. Andremo a vedere questo. Ma soffermiamoci ancora un momento sulla crisi di oggi. Andiamo a vedere questa crisi come l'è fatta. Allora, prendiamo prima i quattro nomi sotto. Prima prendiamo a prestito quattro studiosi che ci hanno detto questo perché è l'amica al dottor Accetti che si è svegliato oggi. Prima, Maria Zambrano. È stata una filosofa spagnola del secolo scorso che diceva aveva capito cosa stava succedendo. Questa è una delle epoche più buie della storia dell'umanità. Parole di Zambrano. Secondo, Bauman è il più grande sociologo vivente il tappetino così. Straordinario. Sapete cosa ci dice Bauman? Con le sue parole che siamo nella società liquida. Liquida lo dico alle tutti stesse. Che non c'è più il bene e il male. Che le stesse robe dedicate a grande fratello uguale a quello del problema della fame. Questo è il dramma. Ce lo dicono loro. Terzo, Galimberti lo ha già detto. Il Papa è merito. Guardate cosa ha fatto Benedetto XVI. Nel 2010 si è beccato tutti i suoi preti, vescovi, cardinali, tutti noi e ci ha detto sentite belli miei. Per dieci anni noi ci soffermiamo sull'educare. Perché? Perché facciamo un po' fatica o no? Questi studiosi ci hanno parlato un po' di questa crisi. Secondo, entriamo ancora un po' più dentro in questa crisi. Vedete, una volta, anche se magari erano sbagliate certe ideologie, comunismo, capitolo, qualsiasi cosa, avevamo le nostre ideologie. Magari sbagliate, però avevi dei punti di riferimento. Oggi, che punti di riferimento abbiamo? L'abbiamo chiamata l'epoca del pensiero debole, che a me mi fa ridere. perché il pensiero debole vuol dire che è giusto una roba ed è giusto il contrario. Signori miei, li abbiamo lasciati ben sguarniti i nostri figli, eh, col pensiero debole. Terza roba, i nostri ragazzi. Questa terza roba la dirò con tutte le forze che ho. I nostri ragazzi sono soli. Adesso a febbraio avverrà uno scempio. Verrete convocati dalle insegnanti. Se io chiedessi a tutti gli insegnanti sulla faccia in Italia, scrivimi su quel foglio di carta bianco quali sono le cose che fai più fatica a scuola. Sapete che cosa scriverebbero gli insegnanti? Non che non c'hanno azucca i nostri figli, ma che non stanno seduti sulla sedia, ipercinetici, problemi di attenzione, problemi di concentrazione, tutto questo. E c'ha ragione! Sono gli insegnanti che non capiscono, poi dirò perché. E se poi chiedete alle insegnanti di questi bambini e bambine, ragazzi e ragazze che vi fanno disperare, quanti sono i maschi e quante sono le femmine? 70% maschi e 30% femmine. Perché? Secondo dato, nel 2010 abbiamo avuto in Italia purtroppo un sacco di suicidi, l'84% maschi. Terzo dato, sono stato un po' di anni fa da Tripalda, un paese fra Napoli e Avellino, c'era il sesto convegno nazionale sull'abuso alla donna, l'abuso alla donna è una cosa tremenda, va condannata con tutte le forze che abbiamo. Ma care d'ore, l'abusante non è il mostro, solo la d'Urso crea i mostri che non capisce niente. L'abusante purtroppo, nell'80% dei casi il maschio è che ti sei scelto. E sapete chi è il maschio che ti sei scelto? Bisogna dare i nomi. È un bebè. Punto. Quarto dato, andate a casa stasera, sedetevi sul divano, guardate tutti i telegiornali che volete voi, poi scrivete M da una parte e F dall'altro, ok? Ogni volta che sentite una notizia tragica fate una croce. Voi vedrete che il 94% dei macelli li facciamo noi maschi. Quinto dato. Se io chiedessi a tutte le donne, io sono convinto che tutte le mamme che sono qui alle loro figlie femmine quando avevano 9, 10, 11, 12 anni gli avranno detto guarda che fra un pochino arriva la mestruazione, preparati. Ma i maschi, i maschi che sono qua, i maschi, al tuo figlio maschio gliel'hai contatto su che arrivava l'eiaculazione che non sai neanche te che cos'è. Perché? Il dramma oggi è tutto qui. Guardate che fine fa maschio oggi. Nasce da donna perché gli affare donne. Va alla scuola materna gli ha tutte donne. Va alla scuola mentale gli ha tutte donne. Le catechisti gli ha tutte donne. Ma è un disastro, sapete? senza colpa. Io sarò durissimo così non mi chiamerete più ma sarò durissimo. Cosa è in crisi oggi? La norma, la regola e riassumo tutto quello che vi ho detto con una frase semplice. Il 90% dei vostri figli maschi di 14 anni hanno 14 anni qua ma emotivamente hanno 9, 10 anni quasi tutti. Questo è. la domanda è come mai semplice. Mi riferisco ad Aristotele un filosofo geniale che ha detto una delle robe più semplici sulla vasa della terra che a forza di fare una roba uno diventa capace di fare quella roba lì o no? Bene, se io ho un bambino lo tratto da piccolo rimarrà piccolo. Bene, perché ho detto che io vorrei fare lo sviluppo evolutivo da voi? Perché il dramma è che noi non sappiamo niente dei bambini. Fino ai 6-7 anni il bambino non è capace di mettersi nei panni dall'altro è ancora piccolo. Dai 6-7 anni il bambino è grande. Aprite il manuale di pedagogia non ai suacenti c'è scritto così l'educazione di un bambino dei 7 anni si chiama contratto, accordo. Sapete che cosa ci sta dicendo la pedagogia? Che dai 7 anni il bambino è grande. Bene, se un bambino è grande ha 6-7 anni e lo tratto da grande diventerà grande. Se lo tratto da bebè rimarrà bebè. Non c'ho tempo per dirvi tutto lo scempio che facciamo. Ne dico solo uno. Poi mi farete tutte le domande che vorrete. Sapete il primo scempio che avverrà in tutte le scuole? Anche nelle vostre! A febbraio ce la consegna facciamo una prova in diretta sulla mano chi ha bambini dei 6-10 anni qua, sulla mano. Bene, ascolta bene me. Come è venuta l'anno scorso la consegna della pagella a febbraio? Come è venuta? L'han chiamata le maestre. Bene, io se fossi un sacerdote tuonerei dall'altare e io non guardo in faccia a nessuno. Guardate, ormai alla mia vita, alla mia età veramente non guardo in faccia a nessuno. A me interessa solo l'uomo. Non andateci mai più! Spiego! E se ci sono degli insegnanti mi ascoltino! Faccio aggiornamento agli insegnanti! Se un bambino lo tratto da grande diventerà grande. Abbiamo cominciato in alcune scuole. Sapete come sarà la scuola del futuro? Noi siamo ancora fermi di 50 anni. Sarà così. La maestra che detterà la circolare ai bambini siete convocati martedì alle 8 di sera. poi dico perché alle 8 ai bambini per ritirare la vostra pagella per parlare dei vostri voti per parlare del vostro profitto scolastico per parlare del vostro andamento potete portare i genitori. È un altro mondo. Solo se io lo tratto da grande diventerà grande. Il problema è tutto qui per non parlare dello scempio delle materne che la scuola più importante d'Italia è la scuola dell'infanzia ricordatevelo non sappiamo niente dei bambini piccoli il bambino è come una pianta più la mette più cresce bene sapete qual è lo scempio della riforma della scuola ascoltate bene a me mi frega niente di l'altro ma noi dovremmo triplicare i finanziamenti nell'infanzia e più il bambino è piccolo meno conosciamo Gesù si è arrabbiato un po' di volte nel Vangelo c'era una volta che l'era fuori con i bambini era fuori è meglio che un macigno ti sia messo addosso c'è tutta la pastorale dell'infanzia che dovremmo rivedere ma non c'è tempo su questo allora chiudiamo qua per dirvi qual è la vera crisi è una crisi di autonomia di prendere in mano se il 100% di tutti i ciaccolamenti è quello la cosa più stolta che esista è la maestra che manda a chiamare la mamma perché il bambino va male a scuola non fatelo più perché alle 8 di sera perché almeno qualche papà ci andrà o no se talfetta ai 4 del pomeriggio non te ne va neanche uno allora è un processo vi ho detto che noi siamo la generazione di mezzo ci vorranno 50 anni prima che arriviamo di là fino ai 6-7 anni ricordatevi questo non c'ho tempo di parlare dell'evolutiva per me la mamma è tutto per un bambino tutto dopo i 7 anni vi chiedo scusa se dico questa frase F punto D punto B punto fuori dalle balle la madre mi assumo di fronte a Dio la responsabilità o il modo di amarlo deve essere diverso ecco perché la pedagogia dice che l'altro educa me perché vado in crisi continuamente e il figlio allora dai 7 anni dovete considerare i vostri figli non più come i vostri figli ma come delle care persone che vi sono affidate ci vorrebbe tanto per dire questo ma chiudiamo qua di fronte a questa crisi facciamo un passo avanti quanto quanto manca perché io qui sì no questo qua lo vediamo dopo prima mazzoliamo ancora un po' qua ecco di fronte a questa crisi ci sono due grandi errori educativi che facciamo tutti il primo sono i cosiddetti revisionisti che dicono l'era meglio una volta bisogna punire se quello sbaglia va punito è da pazzi da perversi punto non fatelo mai più ho preso 4 a scuola per una settimana non vede la televisione ma come si fa a ragionare ancora così così non mi chiamerete più perché io sono diretto sapete ma a me interessano solo i bambini non mi interessa altro i revisionisti non funzionano più fatelo non ti funziona più non reggono più i nostri figli l'altro errore che è quello di oggi che è più grave è il cosiddetto modernismo il quale dice siamo in una società piena di emozioni viviamo in toto le emozioni questo è quello che conta anche questo è sbagliato vedete una comunità anche la vostra si basa su due gambe la prima sono i nostri vecchi perché senza memoria una comunità muore la seconda sono i nostri bambini perché senza bambini che futuro ci abbiamo il modernismo oggi vuole azzoppare tutte e due le gambe azzopparle vi faccio vedere i due grandi errori del modernismo il primo cominciamo con gli anziani racconto un'esperienza su questo mi ricordo una volta ricevo una lettera da parte di una ragazzina di 14 anni di imperia dottor Aceti vengo a parlare alle nostre ragazzine alle quelle della mia classe lei deve venire perché deve venire guardate io sono faccio di lavoro ma quando mi chiamano gli adolescenti io vado perché noi non amiamo gli adolescenti non venite a raccontare balle ho detto era febbraio c'avevo l'azienda piena vengo a maggio vengo vengo 15 giorni dopo mi rimanda un'email dottor Aceti siamo in 800 viene 800 teatro cavur di imperia vengo dove andrà maggio 10 maggio al verso l'1 o 2 maggio mi rimanda un'altra email e mi dice dottor Aceti le chiedo una cortesia prima di venire guardi questa trasmissione televisiva perché sa le mie compagne vogliono il suo parere la trasmissione è quella di questa donna pazza uomini e donne della De Filippi voi non guardatele che non serve ascolti bene no non guardate io dove me l'ha detto lei mi metto a guardarle e che cos'è vabbè non era una cosa proprio così stupida maschi e femmine fanno un po' gli scemi l'abbiamo sempre fatto rispondo alla ragazzina dico guarda non è un gran che però da che mondo è mondo i maschi e i femmine si fanno in filo normale lei mi risponde e mi dice dottor Aceti le chiedo una cortesia può guardare anche la puntata di domani l'aveva già vista una però lo dice lei guardo la puntata del giorno dopo arriva la vecchietta di 70 anni noi siamo abbaccati qua 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 scusatemi c'era Paul Ricoeur che diceva ma se noi facciamo vedere a dei ragazzi di 18 anni che quella di 70 anni vuol tornare indietro che la 50 anni si rifà il seno per essere giovane perché loro devono diventare grandi Enrico Ricoeur dice siamo noi grandi che li abbiamo traditi mettetevi in testa una roba la nostra vita è come una parabola parlessa i primi 50 anni è l'età dei progetti degli ideali dei propositi dei 50-60 in 2 la parabola discendente ma non perché è più brutta ci sono altre bellezze se noi 60 anni non facciamo vedere che è bello avere 60 anni chi glielo fa fa a questi 18 anni di diventare grandi ecco perché li abbiamo traditi una volta i vecchi erano al centro adesso devi essere il giovanile di turno il primo rischio di oggi non dico che è tutto così si chiama infantilizzazione degli adulti il secondo rischio del modernismo a questo il secondo rischio è sui bambini perché sui grandi va bene ma io quando sono i bambini non guardo più in faccia a nessuno ci sono alcune trasmissioni uno di questa donna becera che non capisce niente che non ama i bambini la clerica di ti canto una canzone è uno scempio e la chiesa sta zitta gli ho detto ai vescovi intanto faccio un incontro con loro eccellenze vi svegliate perché domenica prossima su avvenire il giornale dei vescovi non scriviamo queste trasmissioni sono contro l'uomo e fare l'elenco quanto bene faremo perché se non lo facciamo noi chi lo fa non per fare crociate né niente perché bisogna mai usare la violenza ma questo nessuno ci impedisce di tutelare i nostri figli in questa trasmissione qua ti canto una canzone cosa c'è c'è il bambino di 8-9 anni che ha una bella voce si mette a cantare la canzone di Ramazzotti che lui non capisce niente e fa tutta la parte e poi arriva la clerica sta scema che gli dice mi racconti chi è la tua fidanzata e lui fa tutte le parti del grande noi battiamo le mani sapete come si chiama questo in italiano si chiama violenza punto Khalil Gibran lo diceva guai a voi se fate vivere i bambini dalle case che non sono le loro case quando diventeranno grandi faranno fatica a vivere la loro casa questi sono i due grandi errori cui siamo dentro e chiedo scusa alle donne che sono qui se una volta la società la chiamavamo maschilista ed era sbagliato oggi la società è tutta femminilizzata che non è il femminile perché il maschile è bello il femminile è bello oggi si è spostato tutto l'asse di là questo è il rischio di fronte a questo facciamo un passo avanti ma cosa vuol dire allora educare se non va bene in un modo o in un altro allora adesso andiamo a vedere qual è la risposta corretta cosa vuol dire educare prima di fare questo però signori miei sapete cosa dobbiamo fare mandare a ramengo le scemate dei nostri genitori vecchi baccucchi io gli voglio un sacco di bene ai miei genitori ma hanno fatto un sacco di sbagli in buona fede tutto in buona fede allora adesso faremo un'operazione mentale che dovrebbero fare tutta la chiesa tutti gli uomini se noi non avremo niente vedete nell'antica Grecia c'è stato un filosofo era un rompiballe ma a me piace un sacco non poteva essere credente perché era nato prima di Cristo ma per me era più credente di altri l'antica Grecia somiglia oggi l'antica Grecia era popolata dagli dèi oggi abbiamo un sacco di idee e Socrate ha visto questo ha visto che un dio diceva una roba quell'altro ne diceva un'altra quell'altro diceva il contrario allora cosa ha fatto ha avuto un coraggio ha detto gli dèi sbagliano dire una cosa così nell'antica Grecia voleva dire essere condannati a morte voi sapete che lui viene condannato a morte perde per 40 voti 280 perché c'erano tutte le gelosie eccetera ma allora come adesso mica scontavano la pena sapete lo figuro di te quasi lo suo filosofo è morto perché perché la sera prima arrivavano i seguaggi li salvavano tutti la stessa roba capita a Socrate se sapete la storia di Socrate è così la sera prima arrivano i suoi guaggi gli dicono senti bello mio abbiamo pagato i carcerieri ci abbiamo la barchetta scappiamo guardate la risposta di Socrate ma se io scappo i giovani ateniesi cosa pensano della verità e Socrate muore per noi Socrate ha fatto una cosa straordinaria che dobbiamo farla adesso ha tolto il pregiudizio abbiamo in testa tre stupidate che se non ve li togliete noi non porteremo nessuno nel futuro non ameremo nessuno San Giovanni Bosco se li era tolte perché ce l'aveva per grazia ce li togliamo che cos'è un pregiudizio noi siamo in questo teatro qua queste sedie sono rosse le pareti sono grigie questo qua è marrone ok bene ritornate in questo teatro qua questa notte a mezzanotte con tutte le luci spente le sedie ci sono ancora ma voi vedreste tutto nero tutto nero questo è un pregiudizio è un'idea sbagliata sulle cose adesso li dirò e ve li dovete togliere se non ve li togliete a me mi frega niente vado via subito il primo pregiudizio riguarda il carattere non c'è il carattere bello il carattere brutto non c'è non c'è non c'è che nessuna mamma papà papà vescovo cardinale si permetta di dire a qualcuno tu hai un brutto carattere non fatelo mai più che se poi lo dite a un bambino me lo rovinate perché i bambini vedono i genitori come il dio in terra c'è il nostro carattere quello degli altri che fino a quando non siamo padroni ha i suoi ascei le sue difficoltà lo stesso carattere se ne diventa padrone eccezionale racconto un'esperienza su questo io qualche volta vado in Rai a registrare qualche volta qualche trasmissione che per i preadolescenti si chiama Rai Gulp qualcuno la conosce ero andato a Torino avevo una decina di preadolescenti di fronte a me una bambina di dieci anni mi fa questa domanda dottor Accetti sono timida cosa posso fare? sapete cosa ho risposto? il tuo carattere è bellissimo tu potrai diventare una donna attenta premurosa che si prenderà cura dell'altro questa bambina era raggiante ma come fa? questa bambina timida a diventare una donna attenta premurosa qui c'è tutta l'educazione cari signori se voi andate in un posto e ci sono diecimila persone queste sono giù sono giù dopo tre giorni vi tirate su tutti ma se queste sono giù sclerate tutti dite un bambino che è cattivo e cresce cattivo la cosa più stupida che esista sapete qual è? che alla scuola la maestra quando il bambino sbaglia usa la penna rossa tutte fanno così da pazzi secondo pregiudizio il secondo fa saltare tutta l'educazione che abbiamo ricevuto senza colpe il secondo è sulla relazione cari genitori non vi capiterà mai una volta ho detto mai che nella relazione uno ha ragione nell'educazione uno ha ragione e l'altro ha torto mai 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 tutte e due abbiamo ragione io vi posso fare mille esempi quando un bambino di tre anni si butta per terra e dice mamma brutta cattiva vai via se non lo conosco dico che è cattivo e capriccioso non ho mai trovato un bambino capriccioso nella mia vita mai se lo conosco è un'altra cosa non ho tempo di parlarvi dei bambini ma fate almeno questo fatelo noi psicologi infantili abbiamo un sogno io non sono nessuno ma in Italia abbiamo delle donne splendide delle psicologhe infantili eccezionali la Maria Rita Parsi l'Anone Vero Ferraris la Vegetti Finzi la Bertone l'Aia Frati la Scabini la Cattolica di Milano noi abbiamo un sogno una solo che in tutti i comuni e le parrocchie d'Italia tutti venga reso obbligatorio che quando una mamma e un papà hanno un bambino piccolo facciano due o tre incontri per sapere come funziona quel bambino lì quanti errori in meno sapete perché è così importante i primi sei anni vi dico solo una roba del bambino il bambino vede la mamma come il genitore come il dio in terra siete mai stati cotti di qualcuno se gli sbrodolo dietro qualcuno quello che ti dice è la cosa più importante ecco perché sono i più importanti il dramma sapete qual è? che non sappiamo niente di lui faccio un altro esempio provate a giocare con un bambino di 4 o 5 anni e vincere voi quel bambino lì non perde mai colpa tua no non è vero non è vero allora tutte le mamme cattivo capriccioso non è vero se non lo conosciamo gli buttiamo ad osso un sacco di fogna è l'uomo che è andato in crisi il terzo il terzo lì l'ha scritto in un altro modo il terzo poi non ne parliamo l'abbiamo usato per sbandierare l'amore i stupidate il terzo riguarda l'amore abbiamo fregato tutti i nostri adolescenti sull'amore gli abbiamo detto delle stupidate enorme tre stupidate gli abbiamo raccontato sull'amore ai nostri figli non diteglielo mai più e anche nei corsi fidanzati che non venga mai più pronunciate ste stupidate la prima che siamo fatti l'uno per l'altra non è vero punto la seconda stupidata che c'è l'uomo e la donna della propria vita non è vero punto la terza che l'amore c'è o non c'è non è vero con queste tre frasi ci sta dietro il più grande attacco che viene posto ai nostri giovani che si chiama esoterismo andate a casa stasera aziendete le televisioni private a qualsiasi ora te taghi la donna che telefona la maga di turno per sapere se è quello l'uomo della mia vita ma sono così scemo che me lo deve dire lei ma allora qual è la verità sull'amore parliamoci chiaro pensate a voi che siete qui voi non i suocetti quando avete messo su baracca prima di mettere su baracca oh ciccino mio sacchiottino mio pulcino mio dopo un po' ma chi me l'ha fatto fare i preti loro non ce la donano non lo sanno il 70% delle persone qua sedute anche quelli che fanno la comunione tutti i giorni avete avuto dei momenti in cui l'altro non ti diceva più niente e se ti hanno detto che eravate fatte l'uno per l'altro e ti hai cannato se ti hanno detto che quella è la donna della tua vita è cannato se ti hanno detto che l'amore c'è o non c'è è cannato se invece ti hanno detto un'altra verità che dobbiamo dirlo a un bambino di tre anni che l'amore si educa che è sempre possibile l'amore allora quando io ho una freddezza nei tuoi confronti ho due possibilità o ti lascio oppure se so che l'amore si educa posso ancora amarti con l'intelligenza e la volontà lasciatemi finire è sufficiente fare questo per sei mesi non un giorno in più sapete che cosa vi capiterà dopo la cosa più grande più bella e più straordinaria che possa capitare una coppia l'affettività ritorna avviene l'interiorizzazione dell'altro e dell'altra quella coppia subisce una maturità straordinaria perché è frutto dell'amore glielo diciamo questo e guardate che io non ce l'ho con i separati divorziati sono un credente ma sono convinto che il paradiso sarà pieno di separati divorziati omosessuali perché andremo in paradiso perché abbiamo passato il bicchiere da qual'altro questo però non significa che la famiglia non sia un bene in sé lo è sapeste quanto scempio allora noi non siamo fatti l'uno per l'altro noi siamo fatti per l'amore amiamoci e diventeremo l'uno per l'altro capite che senza luce lasciamo via aleatorio se adesso che ci siamo tolti tutti i pregiudizi arriviamo quanto manca quanto manca quanto manca dieci minuti arriviamo alla fine allora a questo punto cos'è l'educazione cos'è l'educazione primo prendiamo qualche filosofo filosofo guardate io sono innamorato di Martin Buber grande filosofo il quale dice vuoi amare qualcuno vuoi educare qualcuno è come una danza fatta di tre passi il primo devo mettermi nei panni dell'altro secondo quando mi sono messo nei panni dell'altro sentirò dentro me alcune cose terzo comunica queste cose e lascialo libero se fai questo educhi se fai questo ami facciamo un esempio io sono qua con voi sono contento spero un pochino anche voi fra un po' andrò a casa vedrò la mia donna bellissima secondo voi gliela devo dire alla mia donna che sono contento sì o no sì o no e chi ha detto mi ha detto che l'amo spiego io sono qua arrivo a casa apro la porta c'è la mia donna Buber ci dice che la prima roba che dobbiamo fare è metterci nei panni dell'altro sono tutto felice mi metto nei panni di mia moglie e magari capisco che è stanca potrebbe essere stanca una sera allora pospongo un'altra stupidata che vi hanno detto è che in famiglia bisogna dirsi tutto no bisogna amarsi è tutto un'altra cosa ma è mai possibile ci sono gli adolescenti che non ne possono più di voi mamme gli dite sempre la stessa roba basta non ce la fanno più solo se lo tratti da grande diventerà grande ma adesso vi faccio vedere un ultimo esempio cosa vuol dire essere grande lei ha sempre figli anche lei ha figli che hanno i suoi figli otto anni bene maschio povero maschio ascolti bene adesso vi faccio vedere che cos'è che cos'è la tetta che non lo molla mai io sono il tuo bambino di otto anni arriva a casa mamma oggi ho preso la nota dimmi come mai bene sai mamma non è colpa mia è la maestra che ha sbagliato doveva dare la nota agli altri bambini era andata a me andiamo avanti prego ma scusate gli ho appena detto che è colpa di quella là ecco vedete questo è fascismo puro spiego le mamme mi ascoltino e anche i preti gli vanno dietro se hanno qualche figlio i preti capiscono qualcosa no devo stare attenti allora spiego mi scuso scusatemi io sarò durissimo primo è vero nel 90% dei casi la mamma la maestra non sbaglia ma lei cosa ne sa che quella volta lei è sbagliato o no lei non era lì noi non eravamo lì abbiamo fatto c'è una sola risposta e in questa risposta dirò tutte le volte che dovete rapportarvi con i vostri figli è tutto lì che sarà il linguaggio del futuro che noi ce lo sogniamo prima parte di empatia mi spiace che hai preso la nota perché questo è un dispiacere per la mamma ma anche per lui e qua la mamma lo fa la seconda parte che è solo una data su mille lo fa una su mille ma vedi figlio questo è un problema tuo è sua la nota è sua la scuola è sua terza parte il sostegno che nessuno si permette di pulire sono sicura che la volta prossima andrà meglio sia che abbia ragione sia che abbia torto a solo una strada prendere in mano sé sapete qual è il dramma se io vi chiedessi che cosa volete dei vostri figli che diventino autonomi autonomo vuol dire che a dieci anni mi faccio i miei compiti i miei tempi eccetera solo se noi lo lasciamo nella realtà sostenendolo ce la farà potrei farvi mille esempi siamo fermi secondo la scuola anche adesso sapete qual è la crisi della scuola ma pensate che oggi a un ragazzo gliene frega tanto di Giulio Cesare è ancora una scuola tutta lozionistica il professore di seconda media va in crisi la scuola inglese la Tavisto di Londra l'ha dimostrato un bambino impara la scuola per due motivi perché ha un buon rapporto con i genitori e un buon rapporto con gli insegnanti il futuro sarà tutta la relazione tutto relazionale oggi in un DVD di storia c'è dentro tutta la storia sapete allora come sarà il futuro tutti i nostri figli cambieranno 7-8 posti di lavoro sono gli studi che ci dicono questo e sapete chi sarà che verrà che è capace di rapportarsi con tutti con tutti con tutti sarà la relazione chiudo questa parte con un esempio quarto elementare inglese per far capire a tutte le insegnanti quanto siamo fermi la maestra dal compito cari bambini il compito è così oggi dovete farlo a gruppi tutti i compiti andrebbero dati a gruppi e la maestra passa a vedere la capacità di lavoro in gruppo c'è quello che ti rompe le balle che nel gruppo è bravissimo si chiamano pile ed ucce ci sono tutti i nomi nuovi ma al di là di quello è la relazione secondo la maestra da qualche dato cari bambini tutti i dati che mancano li prendete da internet dalla rete quarta elementare inglese sembra che noi siamo su un altro pianeta poi la faremo fuori non posso approfondire tutto ma noi siamo fermi sapete di fronte a questo allora se questo è l'educare terminiamo con il capolavoro dell'educazione che io lo metterai in tutte le parrocchie in tutte le scuole in tutte le chiese terminiamo con questo perché oggi mi ho parlato troppo io questi cinque principi qua non è nient'altro che il Vangelo tradotto in pedagogia che la luce tradotta in pedagogia che l'educare tradotto in pedagogia primo principio prendere atto dei pensieri dell'altro sapete cosa vuol dire care mame che quando tuo figlio fa qualcosa prima di intervenire prima ma perché ha fatto quella cosa lì come mai ha fatto questo questo tempo di sospensione siamo capaci di metterlo in gioco secondo principio dell'autostima costruire situazioni dove il bambino o il ragazzo possa provare successo e non fallimento altro che faccio la verifica per vedere quello che non sai fare siamo perversi che tutte le insegnanti sulla faccia della terra quando fanno una verifica devono avere nel cuore la garanzia matematica che l'handicappato più grave della classe sappia fare almeno un esercizio lo costruirà in modo gerarchico in modo che possa dire hai fatto dieci esercizi ma uno giusto la parola infame oggi sapete qual è lo dico di fronte a tutti gli industriali glielo ho detto è la parola competitività non fatelo mai più creiamo solo cadaveri quelli che non sono all'altezza allora allora costruire situazioni dove il bambino si guadagna molto di più con l'odi date con pertinenza con continui riproveri voglio dirvi una cosa su questo perché vedete che non sono idee mie io ho avuto una fortuna il mio professore di psicologia evolutiva è stato per me il più grande professore di evolutiva che abbiamo avuto in Italia gli insegnanti lo conoscevano si chiamava Guido Petter quanti libri ha scritto per gli insegnanti era il mio professore vi dico una cosa su questo mi ricordo molti anni fa teatro San Pio X di Padova a Pieno io ho fatto Padova all'università una delle prime lezioni lui va in cattedra eravamo tutti studenti lì ad ascoltarlo va in cattedra e dice lui aveva due bambini piccoli lui è morto un po' di anni fa due bambini piccoli e dice cari studenti sapete cosa ho messo nella cameretta dei miei bambini ho messo la sabbia ho messo l'acqua per tutto lo sviluppo psicomotorio lui aveva creato una realtà al servizio dell'infanzia noi non amiamo i bambini non venitemi a raccontare storie li tiriamo noi li costringiamo a vivere da noi e poi non educhiamo tutta l'autonomia da piccoli il maniare stabilisce la mamma quello che un bambino di 5 anni deve maniare ma siamo bacati qua ma come ci hanno sempre detto questo vedete se io voglio che un bambino si rinforzi se l'asinello si rinforzi devo cominciare quando è pronto non si dice al bambino cosa vuoi maniare stasera ti dice una roba poi la sera cambia ti manipola ti fa fare quel cacchio che vuole tutte le mamme diventano matte e invece si fa così con i bambini scegli la mamma e scegli il bambino stasera posso fare la pastina la pasta asciutta scegli tu il giorno dopo altri due cibi scegli il bambino potremmo entrare dentro su che cosa vuol dire amare un bambino terzo dare senso e controllo dalla vita quando arrivo a casa devi sempre relazionarci su ciutto qualche volta parliamo noi in famiglia com'è andata anche il papà che racconta la sua roba ma non c'ho tempo il quarto mi soffermo di più è il più importante di tutti essere degni d'affetto vi faccio un esempio signora è sposata lei ce l'ha l'uomo bene le dico cosa vuol dire essere degni d'affetto le dico qual è la cosa più bella che le possa capitare ascolti bene me ammettiamo che oggi non è il suo nomastico che oggi non è il suo compleanno e che oggi non è manco l'anniversario del suo matrimonio e stasera lei va a casa e il suo uomo le dà un regalo molte donne dicono cosa hai combinato ma fasciste e il suo uomo le dica ti ho portato questa roba qua perché ci sei perché esisti vedete care donne lo so che non ci sono gli uomini così lo so ma non è la cosa più bella che vorreste sentirvi dire dalla persona che vi ama non è questo il regalo abbiamo rovinato tutto costo e commercio e bisogna fare regalo da 30 euro perché non me la fai da 20 quanto siamo stolti per non parlare del sacro non c'è tempo di parlare del sacro le prime comunioni le abbiamo fatte diventare uno scempio essere degni di affetto vale anche per i vostri figli fate almeno questa regola non mandate mai a letto i vostri figli mai senza averli salutati mai ammettiamo che tuo figlio ne abbia combinate di tutti i colori ti siedi vicino a letto 9-10 anni gli dici caro figlio oggi non ne posso più di te sono stanchissima hai sbagliato e fategli tutto l'elenco degli sbagli hai sbagliato qua 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 fategli tutto l'elenco perché ai figli bisogna dire la verità ma la parte finale fate il contrario di quello che vi dice il mondo ditegli questo caro figlio ti ho detto tutto quello che pensavo adesso dormi sono sicuro sono sicura che domani farai meglio sapete cosa penso i nostri figli sono mica scemi che nonostante lui è stato cattivo noi gli vogliamo bene gli vogliamo bene perché c'è a noi la chiesa a volte ci ha detto delle stupidate in buona fede quando ci dicevano se ti comporti male Gesù ti vuole male è un'assurdità perché Gesù ci vuole bene anche se ci comportiamo male questo non vuol dire che dobbiamo comportarci male quinto e chiudiamo è importantissimo signori bisogna essere su su come fai ad educare se non sei su bisogna far vedere che siamo su il problema è come facciamo oggi in un mondo che ci mangia a essere su due suggerimenti pratici io sono molto pratico il primo a tutte le donne che sono qui mi ascoltate tutte le donne una volta alla settimana care donne mandate a quel paese tutti marito figli tutti e uscite andate a fare qualcosa che vi piaccia con altri uomini no ma fate qualcosa che vi piaccia e quando uscite non portate il cellulare for di ball fatelo non sei mai a posto ti senti sempre in colpa secondo suggerimento e chiudiamo facciamo sempre la domanda lasciura qua signora risponda alla mia domanda lei mi dica quante volte esce la sera durante il mese da sola con suo marito senza figli mai abbiamo capito adesso le donne i maschi che sono le donne che sono qui mi ascoltino e lo dovrebbe dire in chiesa il prete dovrebbe dirlo in chiesa obbligatorio e se c'è qualche suocera mi ascolti che io la brucio lentamente da quando il bambino ha un giorno appena fa un uè fino a quando avrà 30 anni perché una volta da scappare da 14 anni i trentenni sono sempre lì ho detto anche se ha un giorno avete capito un giorno cari papà due volte al mese mandate a quel paese i vostri figli ve lo dice uno psicologo infantile piazzateli dalla nonna dalla babysitter dategli nei don che fanno qualcosa e il padre il maschio perché la donna non è capace il maschio deve dire questa frase che nelle vostre famiglie non si usa più sta frase ed è uno scempio che non la usate più dovete dire ai bambini io questa sera esco con mia moglie che il bambino ti dirà ma chi è chi è sempre la mamma il papà la mamma il papà la tetta la moglie la donna e sapete cosa vi risponderà il bambino abbiamo fatto gli esperimenti il bambino dice voglio venire anch'io voglio venire anch'io se c'è la mamma è pericoloso perché se lo tira dietro care donne possiamo parlarci fuori dei denti non abbiamo minori care donne le tette le dovete dare ai vostri uomini non ai bambini e allora il papà il maschio deve rispondere così il maschio no no quando diventerai grande e avrai la tua fidanzata o il tuo fidanzato uscirai con lei o con lui sapete cosa provano i bambini e poi chiudiamo sono contento di chiudere non con parole mie con le parole del più grande pediatra che abbiamo avuto in Italia non sono mie di Marcello Bernardi il bambino in questa circostanza prova tre robe primo due volte al mese è potuto stare senza genitori che è importante salutare le mie secondo guardate la chiesa fa gli incontri sul gender perché non capisce che è lì il gender secondo volete risolvere il gender guardate come si risolve secondo il bambino o la bambina con i propri occhi vede che fra il padre e la madre c'è uno spazio una tenerezza una dolcezza un tempo quando diventare grande tratterà bene il suo uomo o la sua donna perché l'ha visto ma che cosa pensate si fa molta più educazione affettiva così che non con tutte le balle che gli diciamo sapete il bambino beve tutto tu non sai cosa vuol dire per un bambino maschio vedere che la sua mamma è di là che si fa tutta bella per quell'uomo lì all'inizio vuole tirare il collo al papà ma poi vuole essere come lui tutta l'identità è lì ma soprattutto e chiude il bambino prova la terza cosa poi chiudiamo che Marcello Bernardi diceva sempre il Bernardi diceva parole sue in questa circostanza il bambino prova la cosa più grande che un essere umano possa provare sulla faccia della terra cioè dice Bernardi il bambino inconsciamente sente che è nato da quell'amore lì e quando un bambino sente che è nato dall'amore è fatta sapete è fatta grazie bene allora prima di fare un po' di dibattito ho chiesto il permesso ho portato due libretti uno è questo qua ed è sulla preadolescenza l'adolescenza lo potete dare in mano anche ai ragazzi c'è un DVD in fondo che è tutta l'educazione affettiva eccetera è un taglio naturalmente cristiano particolare questo l'altro guardate l'altro è un'opera di di carità che sto facendo io per un mio carissimo amico c'è un sacerdote che è quello che ha lavorato con le carceri di Milano che adesso è una parrocchia lui ha scritto questo librettino qui per la Pasqua questa e ho detto guarda dammelo un po' perché poi il ricavato va per tutte queste cose qua tutte e due insieme sono 15 euro se qualcuno li vuol prendere sono lì fuori li trovate sappiate che parte del ricavato va per queste cose qua insomma ecco quindi questo qua serve per questa Pasqua insomma vedete voi chiusa la pubblicità signori adesso tocca a voi io ho buttato lì qualche stimolo facciamo fuori le questioni è bello anche se abbiamo idee diverse che bello anche se abbiamo idee diverse vedete queste serate non ci devono risolvere ma dare qualche luce qualche spunto vediamo se qualcuno vuol dire qualcosa qualsiasi roba anche sui bambini perché non fa la pisciatina quello che volete chi vuole prego chi comincia so che avete paura che mazzolo ma state tranquilli a meno che i vostri figli non hanno profigurati se non hanno problemi stando con voi è già un disastro certo come si chiama e quanti figli ha e metti su baracca prima o poi vabbè vedi tu ho un figlio lo trovo dimmi fai quello che vuoi dimmi alza la voce così ti sa qui c'è uno alza la voce bravo rispetto all'evento che è a partire le famiglie 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 una copia si trova i figli le famiglie si parliamo della separazione allora parliamoci chiaro prima di tutto è sempre una sofferenza io non ho non entro su tutta la dinamica delle separazioni a me interessano i bambini ok la domanda è sui bambini parto da lontano le separazioni sono iniziate già negli anni 60 abbiamo cominciato a farne tanti eccetera c'è stato uno psicologo bravissimo a Milano che aveva capito sta roba e ha detto senti io voglio aiutare i bambini dei separati non entro dentro perché e ha fondato un'associazione dopo arrivo lì che si occupa di questo già da allora si chiama GEA vuol dire genitori ancora era scaparlo questo bravissimo e lui dice quello che a me interessa è che i bambini dei separati non vengono manipolati che soffrono il meno possibile tutto cosa succede spesso che il bambino viene manipolato per tante cose perché perché non lo conosciamo non lo conosciamo perché ormai la dinamica è così ma se un bambino è trattato bene cresce bene anche questa ferita che c'è si può fare in modo che faccia il meno male possibile e si può educare lo stesso tre robe bisogna stare sempre attenti nelle separazioni primo che il partner non parli mai male dall'altro secondo quanti soldi hanno avuto gli avvocati per delle stupidate tanti bambini quando sono col papà fanno in un modo con la mamma in un altro e magari gli raccontano dalle balle la mamma è frequentissimo questo perché se la mamma mi ha detto che hai fatto questo questo perché il bambino ha paura dell'abbandono sapeste quante sbagli facciamo sulle separazioni ecco perché una figura esterna o qualcuno che ti aiuta che non è che non prende parte l'uno dall'altro ma che è sul bambino può aiutare io do sempre questo suggerimento di fronte a qualsiasi separazione eccetera che sempre quando si parla dei bambini ci sia qualcuno esterno dove i due vanno a parlare del bambino non importa la dinamica io non entro sulla dinamica non è mica il mio mestiere non è questo ci vorrebbero altre cose quindi è molto importante questo in modo che il bambino senta che anche se gli adulti non stanno più insieme però gli vogliono bene perché il messaggio è tutto lì è che fino ai 6-7 anni per un bambino è molto faticoso capire questo un bambino fino ai 6-7 anni non riesce a immaginarsi i due genitori separati fa fatica capire che i due genitori possono non andare d'accordo loro dividersi e voler bene a lui un bambino fino ai 7 anni fa fatica in questo dopo i 7-8 anni le cose sono diverse ma anche qui i genitori non conoscono questo allora il mio suggerimento è questo rispettiamo le tre regole che nessuno parli male dall'altro secondo che quando il bambino è con uno dei due genitori sono cavoli suoi quante volte magari il papà è con un'altra donna dopo un po' di mesi è ancora con l'altra donna e la mamma dice se c'è quell'altra donna il bambino non può venire è da pazzi è tutta la gelosia tutte le robe che viene fuori così il bambino non pensa così allora se noi vogliamo amare l'altro devo amare l'altro così com'è vi posso garantire quante cose si può sempre educare purché teniamo presente come funziona il bambino ok qualcun altro se c'è se vuole come si chiama o quanti figli c'ha sono un po' pochi ma fa niente prego solo con due figli come si fa prego mi faccia un esempio di punizione ne voglio uno un esempio che è successo mi faccia un esempio prego questo signore che età hanno i suoi figli bene innanzitutto dovrebbe essere il maschio che interviene il 90% dei vostri mariti sono il figlio aggiunto lo sapete meglio di me io a Crusone non vengo più solo in una circostanza ritorno sono quei preti io voglio fare l'incontro con i maschi con i padri il problema di oggi è questo è andato in crisi il maschio la chiesa non ci sono più vocazioni qui in casa ci sono due o Gesù non chiama più ma Gesù chiama sempre solo che Gesù è timido sapete che Dio è timido è il più grande timido che esista perché? perché non viola mai la nostra libertà mai se c'è uno che non la viola è lui solo che siamo noi che non siamo più capaci di ascoltarlo per non parlare poi di tutta la pastorale dell'infanzia che l'abbiamo lasciato lì arriviamo lì primo ci vuole il maschio secondo c'è un sistema il contratto l'accordo solo che lei perché è difficile per la mamma vi capisco perché per voi è sempre stato il vostro bambino voi usate sempre un linguaggio imperativo fai questo dammi questo quell'altro dopo un po' non ne possono più bisogna usare il linguaggio dell'attesa vi faccio un esempio lei deve considerare i suoi figli come non i suoi figli come care persone che le sono affidate le faccio un esempio ammettiamo che noi tre viviamo insieme ok lei arriva a casa ci vogliamo bene come lei vuole bene lei arriva a casa e io gli dico anzi le faccio una domanda non a lei è quell'altra voglio sapere cos'è che chiede i suoi figli quando arrivano a casa come è andata a scuola non fatelo mai più 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 ma si può la prima domanda che fanno è come è andata a scuola sta pazzi spiego com'è andata a scuola sta tetta che vaga si fa in questo modo se noi tre viviamo insieme ci vogliamo bene lei arriva a casa e io gli dico dimmi com'è andata lei mi dice oh se invece io le chiedo cosa che è difficilissimo per la mamma ma bisognerà imparare se vuoi raccontarmi com'è andata mi farebbe piacere è un'altra cosa noi dobbiamo far risentire i figli che sono attesi ecco perché è una rivoluzione per tutte le madri è difficilissimo per voi secondo solo un bambino che si separa dalla madre e si salva solo un padre che la strappa il bambino dalla madre e si salva perché ne fanno le spese i maschi perché i maschi sono rognati in questo senso fuori non c'hanno modelli maschili senza colpe io sono convinto che siamo bravi tutti allo stesso modo qui non è un'accusa ma è mai possibile che accendi alla televisione il dato che viene fuori è che sono tutti dei bebè se la prendono per una stupidata per niente per tutto perché pur essendo molto più intelligenti di noi hanno capacità di collegare tutto sono virtuali hanno di quelle cose sull'informatica che non vi ho detto niente non demonizzate tutti i mezzi che sono stupendi però da un punto di vista di autonomia sono fragili perché noi li trattiamo da bebè oh signora prima di tutto seconda roba dai sette anni bisognerebbe contrattualizzare tutto ma adesso prendo spunto dalla domanda voglio sapere quanto dà di mancia ai suoi figli quanto dà di mancia ma siamo bacati qua dai sette anni i papà mi ascoltino dai sette anni è obbligatoria la mancia spiego noi non amiamo i bambini non venite per raccontare vale spiego ma come scusatemi se uno più uno fa due se a sette anni un bambino potenzialmente è grande e io lo tratto da grande diventerà grande se lo tratto da bebere guardate sapete come avviene ma quando c'ha bisogno me lo chiede questa tetta che fa tutto basta si fa così la mancia è un diritto perché la mancia non c'ha i soldi si fa così cari papà i due genitori stabiliscono quanto dare se sono poveri possono dare anche dieci centesimi non importa quanto la mancia non c'ha i soldi non abbiamo capito niente dei bambini il papà e la mamma stabiliscono quanto dare poi il padre perché la mancia non si dà perché ha preso otto è un suo diritto anche se prende quattro se ammiassimo i bambini perché noi vogliamo che a dieci anni lui decida delle sue cose ma se decidi tutto te se non c'ha niente lui se sono poveri possono dare dieci centesimi si fa così il papà e la mamma stabiliscono quanto dare poi il papà la donna non serve più il papà deve dire al bambino questi sono i tuoi dieci centesimi poi gli dà l'etica guardate la politica la si fa a sette anni sapete a sette anni poi metterlo al salvadanaio darlo ai poveri vedi tu poi gli dà la tempistica sappi che sabato prossimo ti darò altri dieci centesimi abbiamo fatto gli esperimenti le prime settimane i bambini e le bambine spendono tutti tutto poi se quel bambino che incomincia a vedere che quel pacchetto è di figurine costa 40 centesimi sapete cosa fa? per quattro settimane lui trattiene i suoi dieci centesimi per comperarsi il pacchetto che costa 40 sapete come si chiama in italiano questo sacrificio? sapete cos'è studiare la stessa roba? ha rinunciato a qualcosa di suo per un bene più grande ma Ricor ci dice ma se noi non le educhiamo così perché? andate a vedere tutte le ricerche non i suoi citi ormai le abbiamo pubblicate tutte tutti i bambini che hanno usato il denaro così quando si sono diventati giovani ormai abbiamo tutti i risultati nessuno di loro è andato in dipendenza tutti sono diventati generosi e capaci di utilizzare il denaro tutti sapete qual è il dramma nostro? che noi lo educhiamo quando ormai il treno è passato quando il treno è passato a 15 anni seconda domanda chi fa i mestieri in casa sua? i mestieri chi li fa? mazzolo tutti stasera dai 7 anni si fanno i mestieri adesso ascoltatemi e non si dice al bambino aiuta la mamma a fare i mestieri mi va questa tetta si usa ecco perché voglio parlare con i maschi lo stesso roba che si fa col tuo datore di lavoro cari maschi ascoltatemi perché la casa è il primo luogo dove lui vive sai qual è la cosa pazza di oggi? che le scuole elementari di Clusone li puliscono ancora le bidelle sapete voi datemi i soldi del materiale di consumo e io a costo zero mi pulisco tutte le scuole elementari di Clusone cari bambini è la nostra classe fanno tutto noi non amiamo i bambini tutto fanno i bambini ma ritorniamo ai mestieri in casa non si dice al bambino aiuta la mamma perché quando gli gira lo fa quando gli gira non lo fa è come la stessa roba dei compiti stessa roba si fa il contratto si fa così se io dal mio datore di lavoro voglio avere 50 euro gliene chiedo 200 per averne 50 si fa così il papà fa l'elenco di tutti i mestieri di casa poi comincia parte da quello grande e da quello piccolo quello più grande parte alto tu fai 10 robe l'altro 8 sapete cosa faranno i vostri figli ve lo dico io brutoleranno troppo 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 io vorrei che fosse scritto fuori da questa chiesa dal vostro paese questa frase e le maestre mi ascoltano perché non amiamo i bambini la cosa più bella che un bambino o una bambina possono fare è brontolare uguale bello 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 perché se io vado dal mio datore di lavoro e gli chiedo 200 euro lui brontola no? cos'è il brontolamento del bambino? è la sua idea della realtà cosa faccio dopo? lotto litigo ricordatevi questo l'educazione di 7 anni è la lotta allora il papà e il bambino si mettono a discutere poi alla fine il bambino ma il papà lo sapeva già dice io apparecchierò la tavola tutte le sere non ho finito l'ha detto il bambino dopo aver lottato con la realtà discusso non che gli dice la mamma cosa deve fare non ho finito poi è sufficiente che il padre controlli per 15 giorni che il bambino apparecchia la tavola e io scommetto tutto il mio stipendio con voi che per tutta la vita quel bambino apparecchierà la tavola sapete perché? noi pensiamo che lui lo faccia perché a paura del papà non abbiamo capito niente del padre perché mio padre che è la realtà che ha discusso con me che ha litigato con me si prende cura di me allora mio padre diventa autore di me diventa autorevole manca tutto questo oggi dalla scuola alla società alla famiglia ma noi ce la faremo sapete perché? per due motivi primo perché noi siamo stati programmati per farcela che cosa pensate? il padre eterno ci ha programmati per farcela vorrei dare una tranquillità però a tutti i genitori che sono qua perché so di avervi mandati in crisi ma vi dico questo state tranquilli i nostri genitori i nostri figli non hanno bisogno di genitori perfetti che brutto una famiglia dove dei genitori che non sbagliano mai i nostri figli hanno bisogno di genitori umani i genitori umani sono quelli come noi che sbagliano e ricominciano vale di più una mamma o un papà che sbagliano cento volte e si rialzano e si mettono in discussione che l'altro perfetto spaccato che conosce tutte le regole amare qualcuno non sta nel fare le cose giuste sta nel mettercela tutta ecco perché saremo sempre educatori vorrei darvi questa serenità qua ultima domanda poi c'ho l'ultima roba da dire e chiudiamo la baracca vediamo se c'è ancora uno se no chiudiamo la baracca chi c'è? lei e la Hesu arrivano prego Shura come si chiama e quanti figli ha? solo una ma come si fa? prego lei si ricorda io l'ho guardata anche prima signora lei ha la faccia da numeri dispari dai tre in su ma faccia la domanda prego prego quando fa qualcosa che non va mi scusi le faccio una domanda se lei sto parlando stiamo parlando dopo i sette anni se lei fa qualcosa che non va che cosa vorrebbe sentirsi dire dagli altri ammettiamo che lei fa qualcosa che non va e io vengo e le dico stupida sciocca ha sbagliato qui 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 adesso per tre giorni non fai più questo lei direbbe ma oh noi abbiamo uno strumento io stasera ho fatto una minima parte che è la parola la parola nutre la parola sostegno la parola da senso se io le dicessi e ammettiamo che io e lei ci vogliamo bene come la mamma vuole bene il figlio e io le dico guardi mi spiace molto quello che lei ha fatto ha sbagliato qui 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 sono sicuro che la volta prossima lei farà meglio se lei mi vuole bene si sente già lei dentro però come recuperare noi non ci rendiamo conto di che cos'è la parola bisognerebbe cominciare quando il bambino ha un giorno e soprattutto bisogna cominciare a usare la parola tu con un bambino di un giorno tu non roba nostra usiamo tutte andiamo a lavarci i denti tutte queste tette che vagano non c'ho tempo perché voi dovrei fare tutta la relazione ultima domanda lasciurala poi chiudiamo baracca come si chiama e quanti figli ha lei? aspetti Edi spola lì Edi io l'ho guardata perché vedevo che lei era lì così io l'ho guardata prima stranamente lei ha la faccia da numeri pari ma comunque faccia la domanda prego Edi prego mi dica allora due volte al mese ma lì si si mi scusi quella quella sera lì il maschio ma parliamo si parla fu fuori dai denti ma ne parliamo fuori dai denti se io calcolassi proprio come un calcolo matematico quante ore il maschio sta fuori e quante ore la donna ha considerato il lavoro e tutto il resto lei vada a vedere i dati statistici il maschio sta fuori almeno un terzo in più tutte le volte come la donna quindi lei non si preoccupi lascia il suo uomo lì sono cavoli suoi non ho capito ecco allora certo c'è qualche famiglia dove i due sono un po' patologici come in questo caso però di solito non è così bene carissimi devo chiudere vorrei chiudere con questo devo chiudere voglio chiudere con una cosa che ci ci dà tanta forza sapete c'è stato è religiosa questa ma ci dà tanta forza c'è stato uno scrittore ateo non credente il quale ha detto che la pagina più alta più bella mai scritta da uomo sull'educazione era la pagina del figlio al prodigo e lui spiega perché nel figlio al prodigo siamo di fronte a un giovane che ha un padre padre e madre lo stesso nell'antichità che gli vogliono un mare di bene come noi vogliamo un mare di bene ai nostri figli lui se ne va il padre sapeva che lui stava prendendo una strada dissennata ma lo lascia cerca di trattenerlo ma lo lascia libero lui va e mentre sta maniando le carube dei porci c'è una frase nel Vangelo che dice e si ricordò della casa di suo padre vero? i preti giustamente dicono che si ricorda la casa di suo padre perché lì c'è da maniare giusto? ma questo scrittore ateo geniale perché solo i geni possono dire questo lui dice che si ricorda della casa di suo padre e madre perché suo padre è dentro di lui è dentro se noi abbiamo amato i nostri figli saremo sempre dentro ricordatevi questo dentro il figlio al prodigo si salva perché i genitori dentro se noi li amiamo anche se non li vediamo lì saremo sempre dentro poi lui decide di tornare guardate cosa fa sto padre che è mezzo scentrato lui decide di tornare il padre va sul campanile a vedere se torna se nostro figlio tornasse noi gli diremmo te capimbo poi guardate l'altra scena appena il padre lo vede gli corre incontro ma qui c'è qualcosa che non va ma la roba che io non riuscivo a capire era perché Rembrandt questo pittore che ha disegnato il figlio al prodigo che è geniale come mai Rembrandt dipinge il figlio al prodigo con una scarpa e poi gli mette la luce dietro la luce dico ma cacchio questo ha cannato perché gli mette la luce poi ho capito perché sapete perché perché Dio è cotto di noi sapete dico una roba su Dio so di rischiare molto una volta ero in Umbria ho fatto un incontro con tutte le famiglie dall'Umbria avevo i cinque vescovi lì dall'Umbria eccellenze devo dirvi una cosa ho rischiato molto quel giorno lì eccellenze devo dirvi una cosa sapete chi è Dio immaginatevi io che vado a dire cinque ho rischiato molto quel giorno lì e lo dico anche a voi sapete chi è per me Dio per me Dio lasciatemi finire la frase perché i vescovi volevano linciarvi dopo non mi hanno linciato per me Dio è come un insufficiente mentale spiego spiego un insufficiente mentale è uno che è un chiodo fisso sempre la stessa roba sempre la stessa roba sempre la stessa roba Dio ha un grave problema sapete un chiodo fisso è semplicemente cotto innamorato siete mai stati innamorati vi faccio vedere che cosa fa Dio partendo dall'innamoramento se tu sei cotto di un uomo o di una donna cinque cose noi facciamo le stesse robe che Dio fa con noi primo io non vorrei mai che la mia donna stesse con me perché è obbligata Dio non vuole niente da noi niente secondo se io sono cotto di una donna io una volontà ce l'ho ho una voglia amata di stare con lei o no con lei o no è Dio che ha una voglia amata di stare con noi è già dentro di noi terzo se io sono cotto di una donna ho una voglia amata di stare con lei e lei mi dice di sì ma io sono strafelice sapete se noi diciamo di sì a Dio Kierkegaard diceva Dio è nudo e viene e arriva e sapete che cosa fa Dio? 300 miliardi di volte in più le cose che faremmo noi con la nostra donna io se la mia donna mi dice di sì gli do tutte le robe più belle che ho Dio ci dà i suoi regali e i regali di Dio sono i regali di Dio ti fa scoppiare il cuore di gioia non te ne frega niente dei soldi senti che la tua vita è già di là è strupenda c'è una quinta roba però che ho io con la mia donna e anche Dio io non posso dire alla mia donna che gli voglio bene se non la frequento ecco il cristianesimo ha una regola sola che bisogna viverlo meno male che è così perché la vecchietta di montagna che sa un tubaccio di filosofia e pedagogia può essere molto più felice di noi se ha questo rapporto con Dio ecco allora che cosa vuol dire quando Dio incontra quello perché gli mette il vestito nuovo eccetera perché scusatemi perché è cotto se noi facciamo uno sbaglio e ritorniamo sui nostri sbagli che cosa vorremmo dagli altri vorremmo che gli altri ci trattassero come se noi non avessimo sbagliato andiamo a casa e facciamo questo con i nostri figli grazie auguri e arrivederci a tutti chiuda la baracca grazie davvero di queste grandi non dico suggestioni ma proprio di contenuto penso che nessuno vada a casa sconvolto forse a volte però è anche una provvidenza riandare a casa un po' sconvolti magari parlandone sentendo proprio anche dentro nel nostro cuore quello che una parola come quella che abbiamo ascoltato stasera può suscitare auguri proprio a tutti di vivere quanto ci è stato così proposto stasera ognuno nella sua realtà nella sua famiglia certo guidati sempre da quell'amore l'amore con la A maiuscola ma anche dall'amore che grazie a Dio è quello delle persone che Dio ci ha messo accanto grazie mille grazie a tutti